Ciao a tutti ragazzi, io sono Alfred per Ultimate Team FIFA Italia e oggi sono qui a portarvi la play review di un giocatore davvero davvero fantastico. Stiamo parlando di Zlatan Ibrahimovic 95, carta tiff ma addirittura la sesta versione speciale per lui dopo una hero, punto 2 if e 2 men of the match, ottenuta per i 4 gol nella partita vinta per 9 a 0 dal PSG. Prima di iniziare ringrazierei tantissimo Stefano, utente gentilissimo del nostro gruppo che ci ha prestato il suo account per appunto registrare la review di Ibra. E come ho detto all'inizio il giocatore è davvero fantastico, in realtà non ci sta molto da descrivere. E' un Ibrahimovic 95, insomma tutti immaginerete che è davvero forte ed è un giocatore che mi ha sorpreso anche perché generalmente i giocatori così forti, così come è stato per esempio per Suarez 95 e i vari Messi nei Martoti, sono si forti ma a volte soffrono un po' di qualcosa interno a FIFA che però non sto qui a spiegare. Ibra no, diciamo che più verso la fine della review, cioè o meglio di quando stavo registrando le clip, ho provato anche qualche tiro un po' particolare, qualche tiro da fuori. E devo dire che me li ha segnati comunque e davvero pur volendo sbagliare con questo giocatore davanti alla porta non ci riesci. Non ci riesci perché la caratteristica del tiro come vedete sulla carta è di 97, 97 che si divide in 97 di finalizzazione, 99 di potenza tiro, 94 di long shot, 92 di posizionamento. Insomma il valore più basso è proprio questo romanzo di posizionamento, capite bene che non può sbagliare, non può assolutamente neanche volendo, anche perché ha un 91 d'effetto tra i valori del passaggio e quindi qualsiasi tiro da dentro, da fuori, da casa sua, da dove egli voglia, praticamente entra o al massimo riesce a mettere in serissima difficoltà il portiere. Ibra è un giocatore che forse può peccare un po' in velocità per chi non lo sa usare bene, infatti il valore è di 79 e con un 77 di accelerazione e 80 di velocità scatto. Può peccare in velocità perché non è quel giocatore ovviamente scattante, ma non è nemmeno quel giocatore che ha una velocità abbastanza costante. Parte bene e poi si rallenta, quindi dovete essere bravi col dribbling e con il controllo palla, magari a nasconderla col fisico per fare delle grandi progressioni. Oppure vi affidate alla squadra, magari a un paio d'ali veloci come ho fatto io con Luca Selavezzi, per farlo liberare da solo con quel posizionamento che ho citato prima e grazie anche ai work rates che sono di medio-basso, quindi sta sempre in attacco. Per quanto riguarda invece più strettamente il dribbling abbiamo un altro pro, ovvero quel 93 sulla carta con 95 dribbling puro, 98 di controllo palla e 94 di agilità. Ha solamente un 44 di bilanciamento, cosa che però viene totalmente mascherata dalla forza fisica che è di 99. Assolutamente un giocatore che per spostarlo solamente, non dico nemmeno per farlo cadere, c'è bisogno probabilmente di una decina di spallate. Ha anche un 91 di aggressività, quindi immaginate che quella rara volta che il difensore riesce a strappare palla dai piedi se la va a riprendere e col fisico il povero difensore non avrà molte speranze, quindi è un ottimo pro anche il fisico in generale perché comunque ha anche un 81 di stamina che secondo me è davvero davvero molto di più perché non si stancava praticamente mai e arrivava sempre l'uscito sottoporta e come ho detto il tiro era qualcosa di fantastico. Per quanto riguarda il passaggio, così per chiudere, abbiamo oltre al 91 di effetto già citato, valori ottimi, infatti il valore generale è di 93 e troviamo un 96 di passaggi corti, un 87 di passaggi lunghi, 95 di visione, 91 di punizioni e anche, giusto per gradire, un 87 di cross cosa che teoricamente potrebbe fare di lui anche un falso 9 perfetto con quelle statistiche di passaggi e dei cross teoricamente potrebbe fare anche l'ala però secondo me il ruolo migliore per Ibra è prima punta sia da solo con ali veloci sia magari in coppia con un attaccante veloce altrettanto l'ultimo valore del quale vorrei parlare, o meglio sono due ma uno non è proprio un valore in sé è il colpo di testa 95, non gli sbaglia praticamente mai c'ha un 78 di salto che secondo me è anche qualcosa in più ma è rilevante e anche 4 stelle skill e 4 stelle piede debole cosa che fanno di lui un giocatore ancora più completo di quanto non sia già il prezzo si aggira sul milione e secondo me, non l'ho mai detto per nessun giocatore tranne che per nei martoti ne vale assolutamente la pena quindi andiamo a riepillogare pro e contro di Ibra 95 tra i pro ho inserito il dribbling, il tiro, il passaggio e il fisico mentre tra i contro non c'è niente non c'è niente perché la velocità, sì, ho detto che non è il massimo però non è propriamente un contro perché benché non abbia la velocità col dribbling, col controllo palla in qualsiasi modo voi vogliate Ibra davanti alla porta anche da solo riesce ad arrivarci anche scartando tutti quindi è una cosa irrilevante giusto può mancare un po' alla perfezione può non essere un giocatore perfetto come magari sarà il suo Toz però sicuramente non fa così tanto la differenza non fa la differenza, infatti come vedete il voto finale che gli do è un 10 pieno se lo merita tutto secondo me è un giocatore da avere assolutamente in un top team che personalmente mi ha fatto 5 gol a partita anche contro avversari forti cioè difese insomma con bossa giocatori forti quindi ripeto è un giocatore che se avete i crediti dovete prendere assolutamente al mio avviso quindi il video è finito spero vi sia piaciuto questo era Ibra, io era Alfred alla prossima ciao a tutti ciao a tutti